Ancora morti nei reparti covid degli ospedali Moscati e Frangipane. Alla città ospedaliera sono deceduti tre pazienti, una 83enne di Baiano, un 74enne di San Michele di Serino e un paziente di 70 anni di Atripalda. Il quarto decesso si è registrato all'ospedale di Ariano Irpino, si tratta di una 91enne di Vallata. Al Frangipane sono ricoverati 32 pazienti. Nelle aree covid dell'azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati invece 51 positivi. Intanto l'ultimo bollettino dell'ASL riferisce a di 100 contagiati in un solo giorno nella città di Avellino, un numero che impressiona rispetto al quale il dottore Morrone dell'ASL fa capire però che non bisogna creare allarmesmi. Bisogna fare sicuramente attenzione, è preciso il responsabile del servizio di epidemiologia, ma al momento in città non vede una situazione di particolare preoccupazione. Di 100 contagiati in Irpini a casi totali sono stati 637, fanno parte 33 bambini in età scolare, tra questi sono pochissimi vaccinati. Poi ci sono altri 4 piccoli di età inferiore ai 5 anni. Il resto dei contagiati, un terzo, non ha fatto neppure una dose di vaccino. Il covid comunque continua a diffondersi, soprattutto in famiglia. Il quadro generale in Irpini a mostra una decrescita dei contagiati. I numeri sono decisamente diversi rispetto a quanto accaduto a Natale o, peggio ancora, a Capodanno, dove eravamo di fronte ad una situazione fuori controllo. La raccomandazione per le settimane a venire è sempre la stessa, precisa ancora il dottore Morrone. Fare attenzione nei prossimi giorni. Le tavolate per la lavorazione del maiale, una tradizione che resiste soprattutto in alcuni comuni della provincia, e le feste per il carnevale potrebbero provocare un nuovo incremento. Il senso di responsabilità deve sempre prevalere su tutto.